Sono stati ritrovati questo pomeriggio dei resti umani sulle montagne di Ussita che potrebbero appartenere a Danilo Riccini, il runner perugino di 50 anni del quale non si hanno più notizie dal 27 maggio 2012. A oltre due anni dalla misteriosa scomparsa del runner, questo pomeriggio gli uomini del soccorso alpino che stavano effettuando un'esercitazione hanno trovato i resti riconducibili al cinquantenne. Già da questa mattina ad Ussita erano presenti squadre di carabinieri, corpo forestale dello Stato e soccorso alpino, forse per organizzare ulteriori ricerche dell'uomo scomparso. L'ultimo reperto riconducibile a Riccini è stato uno scarpone da montagna ritrovato il 1 settembre del 2013 in località Valle Romana, alle pendici del Monte Bove, proprio nel comune di Ussita. Ora i resti, su disposizione del magistrato di turno, sono stati rimossi dalla zona del ritrovamento e sono stati portati all'obitorio dell'ospedale di Camerino, in attesa che il giudice disponga gli esami per confermare l'appartenenza a Danilo Riccini. Sul posto per gli accertamenti, anche i carabinieri di Camerino. Della scomparsa dell'uomo, molto conosciuto nell'ambiente di montagna, se ne era occupata anche la trasmissione di Rai Trecchi l'ha visto. Le ricerche dell'uomo erano state effettuate con l'ausilio di elicotteri e cani molecolari sui sentieri di montagna che lui stesso appuntava su un taccuino. Per non dimenticare Danilo, la sua famiglia, insieme all'associazione Penelope Marche, aveva organizzato in occasione degli anniversari della scomparsa due iniziative di solidarietà, di stampo sportivo e sociale, una giornata per Danilo. In centinaia si erano ritrovati anche quest'anno ad Ussita per ricordare il cinquantenne di Perugia che tanto amava la montagna.